La spiaggia di Snoopy Questo è il nome scelto dai soci della spiaggia Ayrone di Grado Pineta per la prima spiaggia esontina attrezzata per raccogliere i cani e i loro padroni. 50 ombrelloni con le relative brandine per umani e animali, queste ultime brandizzate con il logo dello sportello quattro zampe della provincia di Gorizia, sostentrici dell'iniziativa, miglioreranno l'offerta turistica del litorale, permettendo anche ai padroni di trascorrere i feri in compagni dei loro amici quattro zampe. Una serie di doce dedicate e una zona per farli sgambare, oltre ai consueti servizi degli stabilimenti balneari, completano l'offerta. A questa si affiancherà a breve una seconda spiaggia, sempre a Grado, alla GIT, e con tutta probabilità una terza all'Ito di Saranzano. Pubblico e privato, così, sono fortemente impegnati nella direzione di offrire ai vacanzieri una serie completa di servizi per tutte le esigenze. Grazie per la visione!